Capelli biondo platino e belle gambe. Esordì nel teatro di rivista come ballerina. A 18 anni fu la subrette di amore biondo con Walter Chiari. In seguito apparve in spettacoli di Vanda Osiris, Galanteria, Dierminio Macario, Follie di Amleto, Votate Venere, e Ugo Tognazzi, Paradiso per tutti, come attrice venne scoperta da Garinei e Giovannini. Debuttò con un ruolo brillante nel 1952 in Etanasio Cavallo Vanesio, affiancando il protagonista Renato Ruschel. Fu subito un successo. In seguito passò al repertorio drammatico. La sua prima prova in tal senso fu nel 1954 al Teatro Goldoni, in occasione della Biennale di Venezia. Farà parte di compagnie di primissimo piano. Come la Masiero Lionello Pagani. La Masiero Volonghi e la Masiero Foa. Interpretò anche numerosi ruoli nel cinema comico brillante degli anni 50. I suoi due più grandi successi popolari sono stati però senz'altro in televisione. La conduzione di Canzonissima, 1960, e il ruolo da protagonista nello sceneggiato Le avventure di Laura Storm. 1965-1966. Serie rivoluzionaria, per l'epoca, che la vedeva protagonista nei panni di una sorta di tenente scerida ningonnella. Fu per qualche tempo compagna di Johnny Dorelli. Dal quale nel 1967 ebbe un figlio. Gianluca Guidi, lauretta Masiero scomparve il 23 marzo 2010. All'età di 82 anni, in una clinica romana dopo un lungo ricovero. A causa dell'aggravarsi della malattia di Alzheimer. Le sue ceneri riposano al cimitero di San Michele. A Venezia, nella tomba della famiglia Masiero Favaro. Grazie a tutti.